Adesso, cioè, secondo me camperiamo Sì, sì Andiamo a camperare perché non ho avuto due video No, perché questi qua li prendevo da dietro e... Eh, li abbiamo presi da dietro e quindi siamo riusciti a fare la fila Il problema è che ho avuto anche due di fortuna perché lo potevo laserare, è solo che gli ho fatto solo 28 Eh, ma io ce l'ho, 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 io ce l'ho Ok, aspettiamo qua, guarda No, se ne aspettiamo però... Aspettiamo qua un attimo Sì, sì, aspettiamo un attimo No, però loro sono in giro Sì, loro stanno facendo il giro, quindi aspettiamoli qua No, vanno tipo, fanno il ponte loro, scusami, no, non vedono Ah, arriva, stanno ruotando, esatto Ok, no, no, rimani qua dentro che questi qua sono forti È zitto Grumoshot? No, non spera lì Si sta facendo il medikit Sfora, sfara, sfara Eh no, vabbè, non ho mai Ok, vieni qua dentro Guarda, se lo uccidiamo pure questo team 20 Aspettiamo lì, aspettiamo lì qua Secondo me le altre forti, sono forti Fanno tutte le tattiche Eccoli 22, 22, 22, 22 E non c'è più col PR Grazie 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 Sarò per il doddo Arriva Sarò vedete come escevano il giro Pusha, pusha, pusha Mamma mia Ma questo è bravo No, ma questo è bravo No, ma questo è bravo Sono in mezzo agli alberi, cacchio E qua da me E qua da me Sono morto E qua da me E qua da me Bravo Mi ha ucciso, mi ha ucciso Mi ha ucciso Sono riuscito a finirlo C'è un altro team No, vado via Sì, sì, scappa, scappa, scappa Scusa Mi mancano pochissimi punti 8 punti mi mancano E ancora 8 punti arrivo in divisione Arrivo a 2.000, scusa Deve camperare Adesso mi ammazzo con questo qua, ora arriva Caraccio, se non c'è un altro team Però hai finito il mio, no? Sì, sì, uno l'ho finito Poi è arrivato l'altro Ok, vabbè Ma l'importante è che l'ho finito L'importante è che non me l'ho finito Eh, volevo restarti, però c'è non so che gente No, no, fa niente, fa niente Li portate, li portate a 4 punti Eh, però... Fai in box qua In ferro Ok Sei sugli alberi, non credo che... Oh! Mi faccio il medico Il medico tanto per... Anche se sono per dieci aiuto Intanto poi c'è altri due Poi se fai to non mi riesco a fare Quanto danno? Ho fatto... 43 di danno? Un albero? Aspetta l'ultimo da HarrySafe Fatti il box e... Oh, aspetta, getta a destra, getta a destra Hai dietta a destra, eh? Sono un campagnolo io Sì, sì Eh... Fai il giro Fai il giro Verso di qua Fai tutto il giro della safe Vado da sopra Oh siete in quattro, siete in quattro Di camperare... Si devono uccidere Se... Guarda se arrivano secondi Sono in cinque Non è sei e quattro No, no, c'è quattro... Quattro team, scusa Ok E quindi per aggiungere la top devi farire il team Sono tutti i campionati, fatti anche te il box Fatti anche te il box No, no, no Non lo so Però ora arrivo Ma sei troppo scoperto Evitalo, evitali Evitali Tu non resisti Non... Non molto alto, così basta Così ti fanno cadere Non molto alto, basta Ok Ok, lì c'è spuri c'è un team La fight La fight non la c'è uno fuori safe Ok, campero E non gli sparare Proprio quando vedi che è completamente sempre scoperto per un bel po' di tempo Beh, perciò il po' di scusa, tanto mi hanno trovato Ok Top 3 Sono 2.000 punti Sono 2.000 punti Sono 2.000 punti Nel senso Questi qua sembrano bravi Però c'è Devi spostarti Devi spostarti Devi spostarti Devi spostarti Devi spostarti Guarda Guarda Se muori da danno da caduta Ti vado a prendere in casa Io passo da sopra C'è un passo di senso Sì Sì che c'è Sì che c'è Sì che c'è Oh, forse arriviamo a secondi eh Ma che spero Si sta vincendo quello da solo No, vincendo quello da solo È bravo allora No, è morto Oh, siete due Siete due Siete due No, due Sì sì Siete due team Non pushare Non pushare Dall'ipassino da lontano Cacchio Vado a stare l'ansia Sì sì Lory Sei tu contro loro E nessun altro C'è l'altra scoperta sinistra C'è l'altra scoperta sinistra C'è l'hai due Un'altra scoperta Un'altra scoperta No, percate ha un più paura Allora Eh Eh, però c'è arrivato Paglia 46 46 Un'altra scoperta Sì vabbè che botto però è No, 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 no Aiuto vai lari che forse la vinciamo dietro e allo spesso è un po un pollo ma che alla faccia del nambo morì da no no secondi dai